Siamo a Badia Tedalda, comune dell'Alta Valtiberina. Come vedete la straordinaria nevicata di queste ore ha letteralmente sommerso le auto e gli ingressi delle abitazioni. Dopo alcune ore la situazione è tornata diciamo un po' alla normalità. Gli interventi ci sono stati da parte del comune, di una squadra speciale di protezione civile, ma ci sono ancora alcune importanti criticità. Quali frazioni rimangono ancora senza corrente elettrica o senza collegamento telefonico? Allora il collegamento telefonico è una novità di stamattina perché fino a ieri andava, quindi TIM non funziona quasi da nessuna parte, ma siamo in contatto con la prefettura e con la protezione civile provinciale e quindi sono continuamente in azione. Però le zone dove c'è l'interruzione di corrente di energia elettrica da ieri, quindi sono già due giorni, sono le frazioni di Rofelle, la frazioncina di San Patregnano dove abito io, e Caraffaello che è l'isola amministrativa, quella che è l'enclave. Quindi due giorni senza corrente elettrica, sapete bene che l'unica cosa che funziona, che non ha relai, che non ha termostati, è la stufa legna e il caminetto. Quindi è un disagio vero e proprio. Le squadre dell'Enel, già da ieri l'altro, ma soprattutto nella giornata di ieri, si sono prodigate, hanno trovato anche i danni, ma sono di difficile soluzione. Quindi provvedono con gruppi elettrogeni, ma con la difficoltà di arrivare in dei punti dove c'è un metro e passa di neve. Le giornate sono state dure perché quando cade in due giorni un metro di neve in queste zone con un territorio così ampio, con così tante frazioni e una viabilità complicata, c'è un po' da mettersi le mani nei capelli. Però in sostanza la macchina ha funzionato e dobbiamo ringraziare il fatto che due anni fa è nato un gruppo locale di bagliate data di protezione civile. Quest'anno l'abbiamo messo alla prova per la prima volta, ha funzionato molto bene per aprire delle strade chiuse e delle zone che erano isolate. Come sono state queste ore? È abbastanza difficoltose, soprattutto per le persone anziane che si trovano isolate, senza luce, senza riscaldamento, quindi è stato problematico quello, però ci stiamo dando da fare per aiutarli il più possibile. In un giorno siamo riusciti a sistemare un po' le cose in modo tale che si possa muovere. Sì, si sono mossi bene, sicuramente sì, perché stanno lavorando anche adesso e quindi sono andati dagli anziani a sparare la neve e poi niente. Però qui siamo abituati alla neve, quindi il problema esiste fino a un certo punto.